Quinta domenica di Pasqua, ascoltiamo oggi dal Vangelo un brano significativo, l'incontro, il dialogo tra Gesù, Tommaso e Filippo. Gesù dice che i suoi discepoli andranno lungo la via che lui ha segnato, ma Tommaso gli chiede non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gesù qua dice una frase molto significativa in un'espressione che è tipica del Vangelo di Giovanni, io sono la via, la verità e la vita. Sant'Agostino commentando questa frase dice così, per fortuna che Gesù non è soltanto la verità e la vita, perché se lui fosse la verità e la vita ma noi non conoscessimo la via per arrivare a lui, certamente questa sua affermazione per quanto impegnativa risulta un po' inutile, anzi accrescerebbe il nostro senso di fallimento. Gesù è la verità perché ovviamente ci porta la verità di Dio e questa verità è una verità che dà vita perché avere Dio per padre significa costruire, poter costruire la vita a partire da una verità solida e positiva, ma il problema vero è come arrivare ad incontrare questa verità che dà la vita e Gesù dice che lui stesso è la via, cioè non soltanto egli ci indica una verità, ma ci aiuta a camminare in questa verità, ad entrare in questa verità e per questo ovviamente occorre avere fiducia in lui, cioè fidarsi della sua parola e accogliere questa parola accogliendo con essa gli inviti che questa parola suscita al nostro cuore e quindi paradossalmente noi entriamo in questa verità che pur intuiamo ma possiamo conoscerla davvero solo se ci camminiamo dentro, se lasciamo a questa verità spazio nella nostra vita, se costruiamo la nostra vita proprio a partire da questa verità, una verità che allarga il cuore, che certamente ci chiede di uscire un po' da noi stessi, dalle nostre piccole o grandi difficoltà, da certe chiusure che purtroppo segnano la nostra vita, ci chiede davvero questa verità di essere ospitali e disponibili. Per fortuna appunto che questo Signore che ci indica la verità accompagna il nostro cammino, cioè non si stanca mai di mettersi al nostro fianco, non si stanca mai di rinnovare, suscitare in noi nuovi desideri, nuovi pensieri, nuove forze per poter ricominciare a camminare. Questo è quanto dice Gesù a Tommaso e a Filippo che gli chiede, mostraci il Padre, dice chi vede me vede il Padre. La tentazione di voler vedere Dio, di voler comprendere Dio è sempre molto forte, Gesù dice basta vedere me, io che sono il figlio, io che ho vissuto e vivo la mia vita da uomo accanto a voi, in mezzo a voi, io sono la rivelazione del Padre, chi vede me vede il Padre e anche qui l'invito che riceviamo appunto è quello di non accontentarci di una parola di verità ma di guardare a Gesù come la verità incarnata, come la verità che si fa uomo, la verità che cammina con noi, cammina accanto a noi e può sostenere davvero la fatica del nostro viaggio.